Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora sono sempre io Mr.L e siamo tornati in questo nuovo gioco su telefono che ho portato per voi Si chiama Wicked Liar ragazzi, vediamo se si vede anche qui, no non si vede In ogni caso si chiama Wicked Liar e vi metto il titolo bene in descrizione così sapete come si scrive Ed è un gioco per telefono ragazzi veramente molto particolare che mi è piaciuto molto Noi saremo tipo i cattivi diciamo, cattivi saremo, adesso vedete Faremo parte di un dungeon dei cattivi e il nostro obiettivo sarà quello di distruggere la città nemica Come vedete ragazzi il gioco è veramente molto semplice Ora, ho già fatto molte partite quindi so già più o meno il gioco come funziona Quindi noi potremo costruire diversi dungeon ragazzi, metto in pausa per spiegare bene Diversi dungeon dove poi noi potremo metterci dentro le nostre creature Che potranno difendere oppure attaccare Quindi più potremo costruire in questa modalità al massimo 10 piani Il nostro obiettivo è quello di proteggere noi stessi che saremo sempre all'ultimo piano Che ci troviamo qui Ad esempio siamo l'omino che si trova in basso a destra Non serve che io lo indico per telefono Mi è arrivato bene un messaggio su whatsapp che poi Spero che... ok Va bene avete visto un po' la foto di profilo di whatsapp di mia madre Allora Il gioco è veramente molto semplice Distruggere la città nemica attaccando quelle unità apposite E difendere la nostra città sempre difendendo quelle unità giuste Il 90% delle unità che dovremo costruire sarà di tipo difensivo ragazzi In ogni caso ora vedrete Ogni dungeon ci dà abilità speciali Noi qui dentro ad esempio cominceremo già a metterci un capitano bandito Che ognuna delle unità si divide per 3 diversi livelli ragazzi Per esempio vi faccio un esempio Il bandito di primo livello ragazzi Ha 7 di vita tra i danni Al secondo livello raddoppia Le statistiche raddoppiano E aumenta inoltre anche E ha anche l'abilità speciale di solito Che in questo caso usa lo scudo per riflettere le magie E al terzo livello è ancora più potente E ha anche delle E ci potenza anche l'abilità speciale Quindi Ognuno dei dungeon ha alcuni bonus speciali Per esempio Intanto noi possiamo cliccare qua in modo da velocizzare Ops è gioco in pausa In modo da velocizzare l'arrivo degli eroi ragazzi In modo da poterci farci venire più soldi E ogni dungeon avrà delle abilità speciali Ad esempio Col tempo gli eroi ragazzi diventeranno molto cazzuti Cioè nel senso che veramente sembrano quasi controllati da altri giocatori Perché diventano molto forti Ecco ad esempio avete visto che il mio balestriere di terzo livello Ha l'abilità speciale di fare del rinculo che manda via i nemici Cioè Come dire spinge i nemici indietro Ed è un'abilità speciale molto utile Quindi ognuno degli eroi ha un'abilità speciale Io ci clicco sopra Qua me le dice tutte Però dovranno ancora sbloccare le mezze Le sbloccano col tempo anche loro Eeeh Ognuno dei dungeon ha delle abilità speciali Per esempio il covo dei banditi Che è il primo dungeon costruito qua Eeeh Una magia Ci facciamo subito il golem che è il più utile Ok Potremmo sbloccare Ogni volta che raggiungiamo un determinato livello Possiamo sbloccare un solo tipo di magia Il golem ragazzi è il più utile E infatti qui mi dice che Questo eroe appena ha imparato una nuova abilità Cioè Non l'ho fatto in tempo Ognuno impara nuova abilità ragazzi Quindi dovremmo anche noi sempre essere veloci E potenziarci il più possibile Uh grazie a dio non costa niente Ho permuto lì per sbaglio ragazzi Quindi gli eroi Come dire I soldati di livello 1 ragazzi Non ci costeranno niente Però faranno schifo Inoltre quindi Aspetta che vi spiego Il covo dei banditi Ragazzi è l'abilità speciale Che ogni Ognuno dei nostri banditi che muore Ogni bandito che muore Ci dà dei soldi Quindi è molto utile Messo al primo livello Perché nel primo livello Ragazzi i nemici I nostri soldati muoiono subito Perché Gli eroi non saranno ancora indeboliti Al secondo livello È utile mettere una cittadella Che è abitata dagli orchi E dai goblin Come potete leggere Eeeh Anzi Non sapete cosa Vi premo Ognuno Così Guardate Vi premo sopra ogni volta Così voi potete leggere E mettere in pausa Leggere senza problemi Ciò che Ciò che Ognuna di queste cose fa Eeeh In modo così Non serve che le spiego tutti Perché altrimenti Ci si mette un'era Quindi costruiamo adesso La cittadella Che come avrete potuto leggere Ogni volta che Uno dei nostri Soldati Uccide un eroe Ci fa guadagnare Dei soldi in più Come è giusto che sia Io non sento il volume Ragazzi E potremo anche Se vogliamo Velocizzare Il gameplay Il gioco Quindi il gioco Potrebbe essere Risultare veramente Molto lungo a volte Infatti ho messo Una letà normale Perché se no È una letà difficile Ora che lo finiamo Ce ne vuole di tempo Poi Un'altra roba Che mi è dispiaciuta molto È che i nostri Ma Altrimenti sarebbe stato Troppo facile Quindi Va bene comunque In ogni caso I nostri soldati Ragazzi Non si rigenerano mai La vita Non si rigenerano Nella vita A meno che Non ci sono alcune Abilità speciali Come i guaritori Ma i guaritori Sono un po' inutili Ecco Questo qui Che vedete al pieno Di sopra Che ho appena sceso Ha l'abilità speciale Stealth Ed è una cosa Veramente molto Fastidiosa Ragazzi Ora Gli orchi Hanno un'abilità speciale Che hanno questo goblin Chiamato goblin assassino Che intanto Rileva lo stealth Che è molto utile Perché a volte Alcuni eroi Mi fanno tutto il dungeon Perché sono stealth Quindi almeno Così gli sgamo Rivelano lo stealth Rubano soldi Quando colpiscono Un nemico A volte E soprattutto Hanno 18 di danni Che è un danno Inverosimile Ragazzi È veramente molto Ok E infatti potete vedere Ora che I nostri eroi Ci stanno pian piano Uccidendo anche Il secondo ballestiere Qui sopra Nuova magia Ecco qui Questa qui Confermo Inoltre aspettate che vi spiego Un attimo le dinamiche I soldi si ottengono Quando noi Uccidiamo mostri Quindi Più mostri Uccidiamo Meglio è Inoltre possiamo Anche ottenere Per mezzo Di alcune abilità Per mezzo Di alcune unità speciali Come ad esempio Il goblin Che ruba i soldi Oppure altre cose Che vi spiegherò Poi Poi abbiamo In basso a destra Queste due statistiche Questo statistico qua Non ho ancora capito Che serva In ogni caso Abbiamo queste due Il mana Che forse sarà coperto Dalla scritta Mobizen Ragazzi Il mana E le sfere del caos Entrambi servono Per usare le magie Anche abbastanza facilmente Ma Ora non possiamo Mentre le sfere del caos Sono molto rare Ce ne droppano Gli eroi nemici Quando passano E Porca troia Stanno andando avanti Ah vabbè Tanto sono pieno di soldi Quindi Ci facciamo un orco Che ha tanta vita Ma poco attacco Utile per Come tank E dietro un altro Goblin assassino Di solito faccio così Ecco Vi fate vedete Che il mio goblin assassino Ha appena Impedito agli eroi Di avanzare Clicchiamo qua In modo da aumentare Il livello In modo da aumentare I soldi che ci arrivano E Ora io Consiglio di costruire Una tomba Ragazzi La tomba Come avrete potuto vedere È utile Perché Maledice gli eroi E gli fa diminuire L'attacco Ora noi abbiamo bisogno Di cominciare A invadere il nemico Le mummie Ragazzi Sono brutalmente lente Ma Si rigenerano Hanno la rigenerazione Specialmente Queste qua Quindi direi Che non è una cattiva idea Poi Qui dietro Invece ci metterei Una bella Un guardiano antico Ragazzi Di massimo livello Che non è nemmeno Fortissimo Ma l'abilità speciale Di fare doppio dei danni Agli eroi maledetti E 30 anni Ragazzi Sono una roba Molto cazzuta E dietro Invece ci facciamo Un obelisco Di ossidiana In modo che È indistruttibile E non abbiamo Abbastanza soldi Maledete tasse Ok in modo che Così facendo Noi Possiamo Cominciare a produci Il mana Che non abbiamo Ancora cominciato A produci Il gioco Come potete vedere Sta andando avanti Anche a velocità Rapida Altrimenti Non finirebbe mai Ragazzi È veramente Molto lungo E la loro cittadella La quale vita Potete vedere Da in basso A sinistra È ancora full vita Ce ne vuole Di pazienza Ragazzi Infatti Cercherò Di puntarla Soprattutto Su Cercherò Di puntarla Soprattutto Sull'attacco Ragazzi In modo da finire Velocemente Quanto costa 14 Una volta Che lo raggiungono L'ultimo livello C'è Ancora lì Dove ci siamo noi Ragazzi Sarà un po' Come dire Potremmo difenderci Perché l'omino Qua spara magie Però non è molto utile Uh Il nostro Tomb guardia Gli ha appena Shottati tutti Intanto La nostra mummie È arrivata E ha fatto danni Alla città Come potrete vedere E sentire Quegli effetti Sonori Che mancano E wow Quanti soldi Bene Ora grazie All'obelisco Che abbiamo appena Costruito Potremmo cominciare A produrre Mana E ora E ora È anche il momento Di costruire Ragazzi Io consiglio molto Di costruire Un abisso Ragazzi Perché ora È il momento Di cominciare Ad attaccare Quindi Perché Nell'abisso Ci sono veramente Un sacco Di creature Utili Per l'attacco Ora infatti Ve le mostro Quando ho abbastanza Soldi Per produrle In mezzo Potete vedere I nostri Gli eroi Che stanno Massacrando I miei orchi O almeno L'orco Ragazzi Quello lì in mezzo Sta Ha un sacco Di vita Però Ha veramente Un attacco Schifoso Infatti Vedete Che non Toglie Niente Praticamente Il goblin Non può Al contrario Ha poca vita Però Ha praticamente One shot Fa un sacco Di danni Bene Oh Ci abbiamo Anche un boss Ragazzi Bene Noi avremo La possibilità Di produrci Dei boss Che vanno A occupare Di solito Le belle In mezzo Di ogni Adesso Vedete Ad esempio Noi qui Abbiamo La spada Oscura Che è un boss Dei banditi Può Rileva Lo stealth E 40 di attacco È buono 20 di vita Però è poco Può Ah Non so che significa In ogni caso Un boss È sempre forte Quindi lo ingaggiamo Lo potete vedere Qui in mezzo Che ha sostituito Il precedente balestriere Vediamo un attimo L'opera Ragazzi Eh Sì Lo sapevo Infatti Tipo Si teletrasporta È già morto Ma che cazzo È sta roba È già morto Ragazzi Che cavolo Eh Non penso Che respawni Una volta Se era morto Almeno Non ne sono sicuro Però faceva Un sacco Di danni Ora Noi qui Dobbiamo farci Alcuni Invasori Ragazzi Che gli invasori Sono le unità Ci sono 4 Diversi tipi Le unità Il melee Defender Che sono quelli Là che Combattono Difendono Il dungeon Combattendo Ravvicinato I range Defender Che attaccano A distanza I gutterer Che di solito Sono quelli Là che ci producono Il mana Ragazzi Ma ci sono Diversi tipi No I plunderer Che qui Non ci sono Che di solito Fanno la città E la saccheggia Non ci portano Dietro soldi Però sono poco Utili Ragazzi E gli invasori Gli invasori Fanno danni Alla città Quindi noi Qui adesso Ci abbiamo Il night terror Lost Gli invasori Dell'abisso Sono i più forti Perché sono i più veloci A mio parere Abbiamo Il sogno perduto L'incubo E il terrore Notturno Il terrore Notturno È più forte di tutti Da come potete vedere Le statistiche Io dico Facciamo soltanto Terrori notturni Tranne che Qui ora Ci produciamo Anche Un bel Ecco qui Una bel Panico Ragazzi Che ognuno Qua L'abisso È incentrato Sulla paura Ragazzi Che è molto utile Perché Mi è capitato Che a volte Faccia paura Agli eroi Scusatemi Per esempio Ha la possibilità Di mandare in panico Gli eroi Mettendo velocità normale Ora Manda in panico Gli eroi In modo che così Questi qua scappano E scappando Torno al livello Di sopra In modo che così Facendo Hanno più possibilità Di essere maledetti Ragazzi Ed è veramente Molto utile Questa cosa Vediamo tra il mio Ansiate guardia Nel loro eroi Che vince Il mio Ansiate guardia Bene E no La guarigione È inutile Facciamoci No La guarigione Ragazzi Questa volta Voglio farmi la guarigione Potrebbe piacere Abbiamo un altro boss Abbiamo L'occhio Che tutto vede Che no ragazzi Io gli dico Di cambiare eroi Diciamo di andare via Perché Diciamo che Avrei bisogno Da Più attacco Ognuno dei miei soldati Però tuttavia Così facendo Abbiamo il dungeon Che del tutto È completamente Senza difese Ragazzi Perché L'obelisco Non difende La mummia Va all'attacco Che non difende Se togliamo L'ansiate guardian Non Mi sa proprio Che non funziona Qui Ora voglio provare A curare Il mio Ansiate guardian Uh Lo cura del tutto Mi piace ragazzi Bene No Non ho mai usato Quella magia Di solito E ora vi faccio vedere Un po' il golem Come funziona Il golem Costa solo 20 di magia Lo apprezziamo qua Come potete vedere È È inutile Però Se il nemico Se gli eroi Riescono ad arrivare Fino al nostro Al nostro Ultimo livello Aiuta a difendere Il nostro eroe Il nostro eroe Il nostro super cattivo Rimettiamo la velocità Super veloce In modo che così Siamo già a 13 minuti Di registrazione Ragazzi È veramente Molto pesante È mezzogiorno Ok Possiamo costruirci Un bel Ecco qui Una bella No Le catacombe Non sono utilissime Riducono il tempo Di respawn Dei soldati Dei nostri soldati Però Hanno anche Dei soldati Abbastanza forti Dentro Ma preferisco Farci una bella Torre magica Ragazzi Perché c'ha Deve belle unità Due ben diverse Due diverse unità D'attacco Ragazzi Quindi intanto Noi ci facciamo Il congiuratore Di roccia Cioè Che è un Meli difendere Ragazzi Tanta vita E subisce Meio danni Da Dalla magia E ora Ci facciamo Soltanto Cosa per L'attacco Ragazzi Cioè Ci facciamo Un bel Molto Vabbè Che ha la possibilità Di dare fuoco I nemici E quest'altro Che ha la possibilità Di congelare I nemici E andiamo avanti Come potete vedere Ho fatto Di solito L'unità difensiva Ragazzi Dovrebbe essere Cioè Ho messo troppo Unità offensive Ragazzi Devo tirarla veloce Perché ho anche Un periodo di registrazione Limitato Non è che il telefono Mi registra All'infinito E se Finisco la memoria Nel telefono La registrazione Va a puttane E ciò non è mai bene Possiamo farci un boss Ragazzi Ancora l'occhio Che tutto vede Va bene Assolda Voglio vedere Che fa Ah Va in giro L'occhio Che tutto vede Ok E' un po' Deludente L'occhio Che tutto vede Anche se mi aumenta Le statistiche Perché non so Cosa fa Ecco Vedete Ad esempio Adesso ha sbloccato La carica Che mi Come dire Mi 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 Stordisce Nei mici ragazzi Ed è veramente Molto utile Perché sto qua Mi fa Quest'eroe qui Che poi i ragazzi Cambiano anche skin E si potenziano molto Mi fa interi piani Con la carica Potete vedere Mi ha stunnato Tutti quanti E fa anche un colpo Con lo scrudo Che Come potete vedere Stordisce Nei mici Insomma E' potentissimo Ragazzi A volte gli eroi Specialmente Nella realtà Difficile Che sono più svegli Cioè Hanno delle Fanno delle robe Che veramente Sembrano quasi controllate Da altri giocatori Cioè Si spostano In modo da non essere colpiti Si hanno Sbloccano abilità speciali Veramente Abbiamo vinto ragazzi Bene Questo qui era il gioco Ragazzi Verrò portato più che altro Per mostrarvelo Infatti potete vedere Anche una bella sequenza Con gli eroi che scappano Sto qua viene colpito Oh no Scena violente In ogni caso Ragazzi Gameplay finisce qua Ditemi se vi è piaciuto Ragazzi E ci vedete al prossimo video Ciao a tutti